Benvenuti alla mia solita diretta del giovedì sera, durante la quale potete farmi delle domande. In questo momento sta anche parlando Jerome Powell ad una conferenza negli Stati Uniti, quindi potrebbero esserci dei movimenti sui mercati, io un po' butto un occhio e vi faccio sapere mentre sto facendo la diretta, per ora non sta succedendo niente. Mentre ci sono, come al solito vi ricordo di andare a farvi un giro sul sito del mio sponsor CryptoRefils, vi ho messo il link in descrizione, lì ci trovate tutti i negozi di commerce e i negozi fisici in cui potete spendere criptovalute grazie ai buoni acquisti di CryptoRefils, tra l'altro, non so se ne sapete, ma si possono fare anche ricariche telefoniche, quindi pagando in criptovalute. Andate a farci un giro perché è molto interessante. Partiamo subito con le domande perché ce ne ho già un sacco, ne sono già arrivate un sacco, oggi il tema è caldo. Permettetemi però prima di rispondere a quattro domande che sono arrivate via email nei giorni scorsi, ricordatevi potete sempre farmi le domande prima via email a info-marcocavicchioli.it perché io poi quando inizio a rispondere inizio sempre dalle domande che mi sono arrivate via email. La prima è una domanda molto banale che mi dice, ma perché in Italia ci sono exchange minori che offrono il trading sui derivati future, mentre invece Binance non ha ancora ripristinato il trading sui future? Il motivo è molto semplice, Binance è sotto l'occhio, diciamo così, sotto osservazione da parte delle autorità, quindi è costretto a fare tutto perfettamente in regola, il trading dei future in Italia non era in regola, non si è ancora messo completamente in regola, quindi non può farlo ancora. Altri probabilmente non sono sotto osservazione da parte delle autorità, perché ricordatevi che Binance prima lo aveva messo, poi le autorità gli hanno detto che non andava bene e lo ha tolto, quindi ci sono altri exchange che evidentemente non lo hanno ancora tolto perché le autorità non gli hanno dato niente. Io credo che prima o poi lo aggiungerà, il margin trading con leva è già stato aggiunto, quindi riaggiunto, scusate, quindi io credo che prima o poi arriverà anche sui future, allora lo introdurranno e prima saranno completamente a posto con le leggi. Seconda domanda, nel sistema bancario europeo esiste il fondo interbancario di tutela dei depositi a tutela dei correntisti. Pensi che in un futuro ci saranno maggiori tutele dagli exchange di chi è provoluto e da enti esterni? No, però attenzione, ci sono alcuni exchange che in maniera totalmente volontaria fanno delle assicurazioni. Mi sembra che Binance ce l'abbia, forse anche CryptoCom, ci sono tutta una serie di, forse anche Coinbase, tutta una serie di exchange che hanno delle assicurazioni, però sono volontarie. Però può darsi che in futuro vengano obbligati a farlo, cioè vengano obbligati a fare almeno, ad assicurare almeno una certa parte del capitale, dei fondi che detengono per conto dei loro clienti, in modo da poter resistere eventuali shock. Quindi non credo che ci sarà un fondo a tutela dei depositi, ma credo che potrebbero costringere gli exchange a fare un'assicurazione. Questa domanda poi continua, dice, pensi che in futuro ci saranno maggiori tutele per gli holder o non rimane altro che hard o cold wallet? No, no, non ci saranno tutele per gli holder di criptovalute, a meno che ci sono degli strumenti DeFi per avere qualcosa del genere, ma sono complicati, però in realtà nemmeno per hard wallet e cold wallet ci sono tutele, quindi sulle cripto le tutele praticamente non ci sono, io la vedo dura sul fatto che ci saranno in futuro. bisogna prendersi le proprie responsabilità. Poi, terza domanda, una domanda di carattere fiscale, io non sono un esperto ma a questa domanda so rispondere, dice, se io detengo un wallet su un exchange e faccio acquisti e conversioni tra varie criptovalute, bitcoin, ethereum, cross, volana, eccetera, ma senza portare soldi sul conto corrente, quindi senza fare prelievo in euro, queste mie conversioni, cioè le compravendite, sono tassabili? Ebbene sì, però attenzione, perché non è tassabile il prelievo in euro, quello non c'entra proprio niente, è tassabile la vendita, però attenzione ci sono due tipi di vendite, una è tassabile e l'altra no. La vendita che non è tassabile è quella da criptovaluta a criptovaluta, cioè se tu vendi bitcoin e incassi ethereum non ci sono le tasse, però se invece tu vendi criptovalute e incassi valute fiat, euro, dollari o similari, lì invece in quel caso se ci sono plusvalenze quelle sono tassabili, quindi bisogna fare un attimo un po' una precisazione, però non conta niente se fate movimenti in euro, depositi, prelievi, no, contano solo acquisti e vendite, quindi quelle fatte sugli exchange. Poi, ultima domanda, arrivate via email, vista l'attuale situazione di bitcoin e la sua futura proiezione del tempo, grosso modo, quanti bitcoin occorrerebbe detenere come minimo per cercare di vivere di rendita? Ecco, a me questa cosa non piace, ve lo dico chiaramente, è solo proprio una mia opinione personale, a me non piace immaginare di vivere di rendita perché si è acquistato bitcoin, bitcoin serve per proteggersi dalle politiche monetarie eventualmente troppo espansive delle banche centrali, ok? Non serve per vivere di rendita, cioè arriveremo ad un punto probabilmente, un domani, in cui il prezzo di bitcoin varierà poco, quindi adesso varia tanto, in futuro varia poco, potrebbe arrivare a variare così tanto poco, da magari, che ne so, avere un incremento dell'1-2% l'anno, sto inventando, ok? E quindi non credo che si possa vivere di rendita semplicemente perché si è acquistato bitcoin, questo soprattutto in futuro, adesso magari fino a, non so, in qualche anno potrebbero esserci degli aumenti più significativi, ma prima o poi probabilmente finiranno queste cose. Allora, andiamo, passiamo alle domande che mi state facendo via chat. Allora, in che fase di mercato siamo secondo te? E questa è una bellissima domanda perché mi dà modo di introdurre un argomento che tanto avrei, di cui volevo parlarvi lo stesso, cioè c'è la possibilità, ok, teorica, io non so dirvi quanto sia probabile, quindi forse è vera, forse no, c'è la possibilità teorica che questo fine 2023 possa somigliare a fine 2020, cioè all'inizio dell'ultima grande bull run. Attenzione, le grandi bull run di bitcoin, che sono state tre fino ad oggi, sono tutte state dopo l'Halbing, in particolare l'anno dopo l'Halbing. Invece l'Halbing deve ancora arrivare, il 2023, l'anno prima dell'Halbing. Io credo che però, forse, bisognerebbe capirlo bene, adesso poi nei prossimi giorni lo capiremo, forse potrebbe innescarsi una bull run adesso, sarebbe completamente inaspettata, ok? Però i movimenti proprio di oggi, di bitcoin, a mio parere, fanno pensare che questa ipotesi non è assurda. Secondo me, perché si inneschi veramente un'altra bull run serve necessariamente un sorpasso di quota 40.000 dollari per quanto riguarda il prezzo di bitcoin entro fine mese e con il prezzo di bitcoin che stia lì, cioè che sorpassi 40.000 dollari e stia sopra. Se non dovesse riuscirci entro fine mese, o che entro fine novembre, o dovesse riuscirci ma poi dopo torna indietro, ecco che a quel punto la bull run non è partita, o meglio, non è partita una bull run come quella di fine 2020, perché fino a 2020 è a novembre che partì la bull run, ok? Quando il prezzo di bitcoin andò sopra i 12.000 dollari, mentre prima nel corso dell'anno il massimo era stato 11.000 nel 2020 e poi andò fino a 20.000 dollari facendo a dicembre, all'inizio di dicembre, facendo registrare i nuovi massimi storici. Se non siamo in quella fase, perché ovviamente è possibile, comunque siamo in una classica fine di anno bullish, perché molto spesso gli ultimi mesi dell'anno, novembre, dicembre, a volte anche l'ultima parte di ottobre, il prezzo di bitcoin o fa registrare i massimi o fa registrare i minimi dell'anno e quest'anno ha fatto registrare i massimi, perché i massimi sono stati registrati oggi a quasi 38.000 dollari, poi non è ancora detto che l'anno non è ancora finito, però se siamo in quella fase, ricordatevi che quando il prezzo di bitcoin a fine anno fa registrare nuovi massimi annuali, ma non parte una bullera, allora poi a gennaio e febbraio il prezzo scende. Quindi siamo in una delle due situazioni, quindi io non ve lo so dire, però vi so dire che forse entro fine novembre qualcosa in più sapremo. Io vi terrò aggiornati su X, andate su X, il mio profilo si chiama Cavicchioli, lo trovate e da lì, se volete seguirmi, io do tutti questi tipi di aggiornamenti. Andiamo avanti. Cosa deve e cosa potrebbe succedere per un regalo sorpresa bitcoin a 30.000 dollari per qualche ora? Quanti retail sono lì con il dito pronto sul pulsante compra? Quale minimo premeranno il pulsante? No, no, secondo me no, non compreranno. I retail non comprano quando il prezzo scende, non comprano quando il prezzo è basso. I retail comprano quando il prezzo è salito. i retail probabilmente stanno comprando oggi oppure addirittura aspettano i 40.000 euro per dollari per comprare. Bitcoin a 30.000 dollari è assolutamente possibile, secondo me. Non ci sarebbe assolutamente nulla di strano. Certo, se il bitcoin scende a 30.000 dollari non inizia la bull run, ok? Però è assolutamente normale, potrebbe tranquillamente farlo, magari entro fine anno, anche spontaneamente, cioè senza che accada nulla, ok? Io direi che se non è partita la bull run, un ritorno a 30.000 dollari ci sta tranquillamente entro fine anno normalmente per un qualsiasi evento. Però guardate che i retail non ragionano così, ok? I retail sono quelli che perdono soldi in modo che gli altri possano guadagnarli, ok? Andiamo avanti. Ci puoi spiegare in maniera semplice il meccanismo ETF e che impatto potrebbe avere su bitcoin? Allora, attenzione, perché qua bisogna fare una distinzione, ci sono due tipi di ETF su bitcoin, uno già esistente anche negli Stati Uniti d'America che ha come sottostante i contratti future su bitcoin, sono contratti sul prezzo di bitcoin, ed un altro che si chiama ETF su bitcoin spot che invece è basato proprio su bitcoin, cioè bitcoin acquistati sul mercato. Questo negli Stati Uniti d'America non c'è ancora, ci sono altrove, ci sono degli ETN su bitcoin spot in Svizzera, quindi volendo noi possiamo già anche acquistarli, però non negli Stati Uniti d'America. Allora, cosa sono degli ETF? Gli ETF sono dei fondi che sono, che emettono azioni e le cui azioni si scambiano in borsa, quindi uno va in borsa, sulle classiche piattaforme, il Nasdaq, la borsa di New York, quella di Chicago, eccetera, trova queste azioni, le può comprare e vendere. L'ETF su bitcoin spot banalmente ha un tot di bitcoin comprato dal mercato e immobilizzato, custodito offline, quindi con call wallet, che corrisponde al numero di azioni, non uno a uno, insomma, la proporzione sarà differente, ma comunque il discorso è questo. Questo che cosa significa? Che se venissero approvati e tanta gente comprasse azioni di quell'ETF, i gestori di quell'ETF dovrebbero emettere più azioni, ma al tempo stesso, per forza di cose, comprare bitcoin dal mercato. Ricordatevi che i bitcoin comprati dagli ETF vengono immobilizzati, tolti dal mercato praticamente per sempre, fino a che eventualmente quelle, eh, il gestore decidesse di venderli se diminuiscono le azioni. Il discorso è un po' complesso, comunque, capite perché potrebbe avere un impatto su bitcoin, perché se tante persone vanno a comprare queste azioni degli ETF, i gestori dovranno comprare tanti bitcoin sul mercato e immobilizzarli ritirandoli dal mercato e questo vuol dire che diminuirebbe l'offerta sui mercati e quindi potrebbe aumentare il prezzo. È molto, molto interessante. Andiamo avanti. Vediamo questa. Quando inizierà il ritracciamento serio di bitcoin e perché avverrà? Io non lo darei così tanto per certo questo. Cioè, se siamo veramente in una fase simile a quella di fine 2020, non è detto, ma ipotizziamo, beh, fine 2020 il ritracciamento ci fu a gennaio, però, attenzione, ricordatevi, a fine 2020 accadde questo, il prezzo era 10.000 dollari, prima andò a 20.000, poi andò a 30.000 a fine dicembre, poi andrò a 40.000, superò i 40.000 a gennaio e poi ritracciò a 30.000. Quindi, il ritracciamento prima o poi ci sarà, non so cosa intendi per il ritracciamento serio, ma se siamo in una situazione come quella, il ritracciamento dovrebbe essere ampiamente sopra i 35.000 dollari. Io però, comunque, non escluderei che non sia iniziata oggi una bull run, ma che magari siamo semplicemente in una classica fase di fine anno bullish, come capita spesso. In questo caso, il ritracciamento potrebbe esserci tra fine dicembre e la seconda metà di dicembre, gennaio e febbraio e la prima metà di febbraio. Però, il problema è che se il prezzo di bitcoin salisse ancora, il ritracciamento, anche in questo caso, magari potrebbe arrivare a 35.000 o a 30.000 dollari. E non fatevi trarre in inganno, perché ci sono diverse fattori che fanno davvero pensare che in questo momento il prezzo di bitcoin stia salendo e basta. Tant'è che oggi è salito troppo, perché è andato a quasi 38.000 dollari e subito è risceso a 36.000, 36.000 per oggi un prezzo normale, nel senso che ci sta perfettamente, niente di strano. Scusate, altra domanda, come mai questo pump di cro e solano? Allora, su cro credo di poter dire che era davvero sceso troppo, era sceso tantissimo, in modo quasi, decisamente strano, non giustificabile. il fatto che fosse sceso a fine 2022 ci stava, ma il fatto che fosse sceso nel 2023 non è che ci stesse tanto e quindi molto probabilmente era solo sceso troppo e quindi è risalito, era sceso tanto e risalito tanto. Per quanto riguarda Solana, un discorso simile si può fare, ma invece su Solana stanno circolando delle previsioni molto ottimistiche, io non so quanto siano corrette e quindi ci sono molte persone che stanno puntando su Solana, attenzione però perché Solana non è neanche Cro, dietro Cro c'è Crypto.com, dietro Solana c'è un'azienda, attenzione perché se per caso l'azienda deve essere avuto dei problemi scende anche il valore della criptoluta così come Ripple con il CRP, eccetera, quindi non stiamo parlando di progetti, non è Ethereum, di Ethereum, non c'è nessuna azienda, quindi se falliscono alcune aziende che usano Ethereum non capita magari niente al prezzo di Ethereum. In questo caso invece c'è veramente molta attesa per Solana e per quelle previsioni che sono state fatte sono molto molto ottimistiche e quindi ci sta che sacca. Cosa ne pensi della giornata oggi sull'e-crypto? Allora, secondo me la giornata di oggi potrebbe essere estremamente interessante qualora fosse veramente l'inizio della bull run, non è detto che lo sia. Cioè, se questa volta la bull run inaspettatamente arriverà un anno prima, quindi non nel 2025, nel 2024 potrebbe essere iniziata oggi perché dovete sapere una cosa, che il prezzo di Bitcoin nel corso del 2023 arrivasse a 35.000 dollari era perfettamente normale in linea con quello che accadde nel 2019, quindi fino a 35.000 dollari. Non c'è da stupirsi, ma oggi non solo è andato fino a 36.000 dollari, ma è poi andato a 37.000 e a 38.000 dollari, poi è risceso quindi oggi è andato ben sopra i 35.000 dollari. Per carità, fino a 40.000 è ancora ancora nella norma, sempre riferendosi al 2019, ma se dovesse riuscire a superare i 40.000 e a starci e magari addirittura puntare verso i 45.000 senza necessariamente arrivarci entro fine anno, ma comunque con quel tragitto e allora potremmo davvero iniziare a seriamente a pensare che forse questo fine 2023 non è simile a fine 2019 ma a fine 2020. Quindi bisognerà aspettare. Io credo che forse entro fine novembre dovremmo avere delle idee molto più chiare a riguardo. Mi raccomando, tenete d'occhio i 40.000 dollari entro fine novembre che sono un dato chiave. Poi, tra hard wallet e cold wallet che differenza c'è? Allora, il cold wallet molto banalmente è un wallet non connesso ad internet quindi che nessuno può usare. Ok? Ovvio, nel caso in cui il SID e le chiave private siano conservate bene. Quindi, gli hard wallet quando sono scollegati sono dei cold wallet ma quando li collegate quindi state usando un software che consente di fare transazioni e transazioni che hanno fatto online ecco che diventano degli hot wallet invece i cold wallet veri e propri sono quelli che stanno sempre offline cioè sono quelli che costudiscono il SID e le chiavi private di indirizzi sui quali ci sono dei token che non vengono mai usati perché per essere usati bisogna portarli online bisogna collegarsi online con un software su cui ci sono SID o chiavi private quindi questa è la differenza. Come si paga il bollo del 2 per 1000 ovvero da partire dal 2023 quindi non dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno che si riferisce al 2022 ma la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo che si riferirà al 2023 a fine anno bisogna pagare un'imposta di bollo del 2 per 1000 cioè dello 0,2% sul totale in euro delle criptovalute detenute e dichiarate. se non ho capito male nel momento in cui a partire dall'anno prossimo si compilerà il quadro RV lì ci sarà da dichiarare questo 2 per 1000 e poi si farà il classico versamento con F24 per le tasse oppure io sono abituato con F24 perché sono una partita IVA poi non so gli altri non so ad esempio come facciano i dipendenti però questo non lo so tecnicamente però andrà dichiarato sulla dichiarazione nel quadro RV allora conosci lo stato e i tempi relativi alla causa SEC Coinbase se non sbaglio proprio oggi è uscita una notizia che è un po' passata in secondo piano secondo la quale sembra che la SEC contro Coinbase potrebbe mollare ecco quindi potremmo anche nel giro di non tanto tempo non so quanto ma non tantissimo avere una qualche sorpresa positiva però questa la notizia questa notizia che ho letto oggi non è confermata quindi magari non è vero i tempi solitamente con questa causa sono lunghissime prendete Ripple la causa risaliva a fine 2020 ed è parzialmente finita cos'è ad agosto 2023 quindi dopo quasi tre anni e non è completamente finita perché è finita la causa contro XRP ma non contro quella Ripple quindi potrebbe andare avanti ancora per anni in teoria ok vediamo un po' c'è una possibilità remota che gli ETF vengono bocciati sì io non me ne intendo ma so che ci sono dei degli esperti che dicono che le probabilità sembrano essere tra il 5 e il 10% quindi irrilevanti cosa succederebbe nel medio lungo periodo a Bitcoin no no se vengono bocciati è sul breve che sul medio no perché la situazione sarebbe la stessa di adesso è sul breve che il prezzo di Bitcoin scenderebbe molto tornerebbe probabilmente ben sotto i 30.000 dollari l'approvazione di un ETF spot in uso è davvero importante per il prezzo di Bitcoin a mio parere no non l'approvazione l'eventuale successo cioè se le azioni degli ETF verranno emesse sul mercato e verranno comprate da molti cioè se attireranno molti capitali l'approvazione secondo me non è particolarmente importante e sì hai ragione Salvo dice 8 su 10 pensano al controvalore e ad arricchirsi tutto ciò è anche lecito è verissimo e sono d'accordo forse 8 su 10 è poco forse 9 su 10 secondo te è possibile che la Cina possa mettere un ETF spot su Bitcoin all'istante il band di due anni fa in questo momento no però a Hong Kong Hong Kong è territorio cinese che si chiama zona speciale però autonoma però in realtà è Cina e a Hong Kong ci stanno pensando quindi in Cina la vedo dura per ora però se a Hong Kong a Hong Kong non la vedo particolarmente dura magari nel 2024 arriverà un ETF spot su Bitcoin ad Hong Kong se poi dovesse funzionare e magari poi arriva in Cina quindi la risposta è alla fine sì anche se forse ci vorrà un po' di tempo cosa ne pensi di DeFi 2.0 no io sulla DeFi non sono ferratissimo quindi non so che cosa sia la DeFi 2.0 so cos'è la DeFi ma il 2.0 no oggi FTT token ha fatto un pump pazzesco da cosa dipende o se ormai è svincolato da FTX e no in realtà dipende proprio da FTX perché guardate che l'FTT token e comunque dietro c'è ancora FTX solo che FTX la nuova gestione quella imposta al tribunale fallimentare lo ha messo da parte ok però oggi ho avuto il pump perché è uscita la notizia che la SEC che mi sembra Gary Gensler ha detto che FTX può riaprire in qualsiasi momento se ha i requisiti e vogliono riaprirla io credo che sia probabile che FTX riapra ovviamente con tutta un'altra gestione perché adesso proprio anche la proprietà praticamente è differente è tutto è tutto diverso e quindi molti sperano di poter andare su FTX a vendere i token FTT e quindi è salito il FTT adesso è un token speculativo ma che varia a seconda delle notizie su FTX 10.000 dollari il prezzo di bitcoin in questo momento io la vedo come una buttada una come dire una cosa buttata lì così senza nessun senso ma quindi USDT e i money o asset referenced token allora fammi spiegare la normativa italiana prevede che se voi vendete criptovalute in cambio di i money cioè non valuta fiat ma criptovalute che funzionano come monete allora ci dovete pagare le tasse sulle 20 uguali più o meno sparenze ma se vendete delle criptovalute in altre criptovalute che sono collateralizzate in altri asset tipo che ne so Tether Gold Pax Gold non c'è la tassazione su eventuali plus valenze ora USDT teoricamente è un i money ma l'emittente Tether non sembra avere le caratteristiche per rientrare legalmente negli emittenti di i money quindi USDT e sarebbe i money avrebbe le caratteristiche ma non il suo emittente quindi non si sa bene io personalmente per prudenza preferisco considerare USDT un i money quindi se voi vendete bitcoin e incassate USDT avete una plus valenza e ci pagate le tasse sopra però giustamente nella live dell'altro ieri l'esperto diceva guardate che però ci sono delle stable coin che sono asset reference token tipo DAI cioè le stable coin algoritmiche che non sono collateralizzate in valuta fiat USDT è collaterizzato in valuta fiat se voi andate su tether gli date USDT e loro vi mandano i dollar dovete mandargliene 100.000 ma comunque si può fare e se non volete farlo su tether lo fate su bitfinex che è invece l'exchange che usa tether per fare queste operazioni di importo minore con DAI no con DAI voi non potete darli indietro e ricevere dei dollari ok sebbene DAI abbia sempre più o meno il prezzo di un dollare perché DAI è collaterizzato in ethereum in bitcoin e in altre criptovalute quindi è un asset reference token non unimoney anche se il valore di mercato è sempre un dollare XRP e su XRP io comunque ancora qualche dubbio ce l'ho perché la questione della SEC contro Ripple non è chiusa ok poi magari vince anche Ripple non lo so io sono un po' scettico su questo comunque c'è XRP è stato decretato sicuramente non una security però dietro c'è XRP c'è Ripple Ripple è ancora in causa che la SEC potrebbe perdere vedremo capiremo quando finirà del tutto la causa cosa ne pensi di Solana XRP e dei progetti dietro ecco allora lo dico come opinione personale a me non piacciono i progetti cripto che dietro hanno delle aziende a me piacciono i progetti cripto decentralizzati Bitcoin Ethereum ora XRP in teoria dal punto di vista tecnico la blockchain è decentralizzata ma insomma la metà dei token c'è la Ripple quindi c'è poco da fare c'è il successo di XRP è legato a Ripple se Ripple ha dei problemi o fallisce XRP va giù stessa cosa Solana stessa cosa BNB di Binance CRO di Crypto.com eccetera eccetera a me piacciono i progetti decentralizzati che non hanno dietro un singolo soggetto che può fallire anche perché le aziende prima o poi falliscono perché una grande azienda dovrebbe rivolgersi a BlackRock anziché direttamente a Coinbase per comprare Bitcoin eh no attenzione gli ETF su Bitcoin spot come quello emesso da BlackRock non servono alle aziende le aziende possono tranquillamente continuare a comprare Bitcoin anche i privati servono alle istituzioni per un'istituzione è un problema comprare Bitcoin a parte che non lo può comprare da Coinbase perché non è regolamentale e poi ha un problema con la custodia cioè hanno devono rispettare delle norme per gli per gli investitori istituzionali serve uno strumento come l'ETF e l'ETF è stato creato per gli investitori istituzionali BlackRock non ha tra i propri clienti aziende investitori retail ha solamente grandi investitori gli investitori istituzionali sono gli grandi sono le balene ok è per loro che ci sono gli ETF quindi una un'azienda anche fosse Tesla ok molto probabilmente gli conviene comprare Bitcoin che non comprare gli ETF a meno che non sia un'azienda con un'attività finanziaria cioè le società che fanno finanza gli conviene l'ETF perché li trovano già lì sulle piattaforme delle borse e è già sottogestito le tasse le dichiarazioni eccetera quindi semplicemente è un asset come un altro mentre invece per le aziende che magari dicono io voglio avere Bitcoin in portafoglio no no è meglio avere Bitcoin lasciare perdere gli ETF e ma sui allora sui 10.000 euro di Bitcoin sì è possibile in teoria ma sinceramente oramai cioè è una probabilità davvero davvero bassa cioè se a questo punto il prezzo di Bitcoin va a 10.000 dollari per Bitcoin si mettono malissimo le cose ok io lo credo davvero troppo poco probabile probabile 30.000 dollari potrebbe anche essere probabile 25.000 dollari già 20.000 dollari io lo vedo difficile però è possibile in teoria ok è solo poco molto poco probabile se vendo una cripto e genero plus pago le tasse ma se vengono compensate con minus da vendita in perdita sì o meglio se io ho delle minus valenze e le dichiaro però devo dichiararle ok nel quadro RT allora per quattro anni posso prendere quelle minus valenze e detrarle da eventuali plus valenze degli anni successivi sempre però solo in ambito cripto ok quindi le minus valenze cripto si possono detrarre solo dalle eventuali plus valenze per quattro anni quali scenari si aprono ora che Bellecrock ha depositato un'application per TF su Ethereum dovete sapere che oggi si è scoperto che Bellecrock sembra di aver intenzionata anche ad emettere un ETF su Ethereum spot si aprono dei scenari molto interessanti allora fatemi dire una cosa chiara Ethereum non è una concorrente di Bitcoin quindi l'ETF su Ethereum di Bellecrock non è un concorrente dell'ETF su Bitcoin di Bellecrock ok sono due cose differenti gli scenari che si aprono sono molto interessanti perché Bitcoin ha un ruolo quello di copertura riscon contro le politiche monetarie eventualmente eccessivamente espansive delle banche centrali Ethereum invece è un investimento in tecnologia blockchain quindi tutti coloro che vogliono investire sulla blockchain potrebbero essere interessati a comprare un ETF su Ethereum spot mentre non lo useranno come copertura contro le politiche monetarie quindi si aprono delle stesse identiche prospettive che si aprono per Bitcoin ma su Ethereum infatti oggi Ethereum è tornato sopra i 2000 dollari dopo un sacco di tempo a che ora Paolo sta già parlando ha già iniziato alle 8 poi è dovuto interrompere perché c'erano le proteste per il clima però in questo momento io vedo che non sta dicendo niente di che tenete presente che una conferenza stampa scusate è una tavola rotonda una conferenza del Fondo Monetario Internazionale potrebbe anche non dire niente di particolarmente interessante ha fatto un'introduzione in cui ha detto tutte cose già note quindi io l'ho vista niente di interessate per ora ok scusate questa risposta l'ho già data quanto potrebbe influire una recessione economica sul prezzo di Bitcoin ecco bellissima domanda allora io non so proprio rispondere però secondo me influirebbe anche perché teniamo presente che in questo momento sembra improbabile che gli Stati Uniti vadano in recessione o in questo trimestre o nel prossimo cioè praticamente prima dell'halving poi dopo l'halving le cose potrebbero cambiare ok mentre invece sembra probabile che l'Unione Europea nel complesso l'Eurozona nel complesso vada in recessione forse già in questo trimestre e potrebbe rimanerci nel primo trimestre 2023 ma conta poco sui mercati finanziari internazionali gli Stati Uniti sembra che non ci vadano quindi se ci vanno è un disastro perché tutti adesso stanno sprezzando sui mercati che non ci sarà la recessione se ci sarà sarebbe una botta davvero davvero pazzesca però deve avvenire o questo trimestre o il prossimo prima dell'halving di Bitcoin perché dopo l'halving di Bitcoin le cose potrebbero cambiare ok ok scusate ci sono alcune domande a cui non so rispondere le salto ok allora ecco questa è una un'affermazione completamente falsa cioè il fatto che il prezzo di Bitcoin sia pompato da iniezioni di USDT appena mintati è completamente falso perché ed è stato anche già ampiamente dimostrato questa è una balla che gira già dal 2018 addirittura dalla bullona nel 2017 se si va a verificare si scopre che invece è l'esatto contrario cioè prima il prezzo di Bitcoin sale e poi dopo vengono creati nuovi USDT quindi è l'esatto contrario è il primo halving con veri investitori istituzionali le analisi cicli possono essere invalidate sì è vero è il primo halving con veri investitori istituzionali perché prima nei precedenti halving se c'erano erano praticamente irrilevanti le analisi cicliche possono essere invalidate sì però attenzione cioè potrebbero essere invalidate al contrario nel senso che gli investitori istituzionali potrebbero portare una quantità di capitale mostruosa non dimenticatevi che se voi rapportate il mercato cripto la capitalizzazione complessiva del mercato cripto con quella complessiva del mercato azionario anche solo di quello statunitense stiamo parlando di diversi ordini di grandezza perché perché sui mercati azionari ci sono tutti anche gli istituzionali sui mercati cripto ancora no quindi con gli investitori istituzionali con gli etf potrebbe cambiare completamente perché potrebbero arrivare molti più capitali di quanti ne sono arrivati fino ad essi e di quanti diciamo così fino a poco tempo fa ci si immaginava potessero arrivare quindi sì possono cambiare anche le analisi cicliche ma in meglio probabilmente scusate ci sono alcune domande a cui non so rispondere devo saltarle scusate anche questa anche questa è un'affermazione completamente falsa non è vero che nessun etf potrà essere non potrà essere approvato fino a che il mercato non è stato regolamentato tant'è che gli esperti di etf dicono che invece sono elevate probabilità che vengono approvati etf su bitcoin spot entro fine 2023 3 o al massimo inizio di 2024 infatti gli etf su bitcoin ci sono già sono basati sui future negli Stati Uniti d'America e i future su bitcoin sono stati autorizzati e regolamentati dal CME dalla borsa di Chicago quindi tutto regolare e ci sono anche dalla borsa di Toronto che è in Canada quindi anche questo è completamente falso anzi ti dirò di più no ti blocco perché mi spiace ma stai spammando notizie false quindi non permette a nessuno ricordatevi che se venite a spammare notizie false sui miei in qualsiasi mio canale io vi blocco appunto perché non tollerò le notizie false non toglierò gli spacciatori di notizie false altra domanda guardavo bitcoin queste settimane interessante ma quello che vorrei parlare di uno come te che ne capisce perché in queste ultime settimane bitcoin era scollegato da XRP e ISO ISO app BTC fermo sì è vero nelle ultime settimane bitcoin si muoveva sulla sua direzione era scollegato quasi da tutto molto probabilmente per la storia degli etf cioè per il fatto che c'è molta molto ottimismo sull'approvazione degli etf quindi non era scollegato solo da XRP ISO eccetera ma quasi da da tutto poi ovviamente poi alcune altre alcune altcoin seguivano bitcoin ma bitcoin stava seguendo una sua una sua strada quante transazioni fa bitcoin al secondo allora bisogna distinguere tra transazioni on-chain e off-chain quelle on-chain sono quelle che vengono registrate sulla blockchain di bitcoin quelle sono poche perché viene minato al massimo più o meno un blocco ogni 10 minuti 9 minuti in un blocco ci stanno 2000 3000 transazioni quindi on-chain sono poche ma off-chain quindi usando ad esempio lightning network non c'è un limite nel senso che su lightning network chiunque può crearsi un nodo e quindi volendo chiunque può gestirsi tutte le transazioni che vuole in maniera totalmente autonoma senza nessun limite e visto che di nodi ce ne sono già tanti adesso vediamo se riesco a dirvi quanti nodi di lightning network ci sono già al mondo perché ce l'ho qua come dato in questo momento ci sono vediamo se mi carica il dato ci sono circa 16.000 nodi in giro per il mondo ogni nodo può gestire una quantità enorme di transazioni quindi praticamente non c'è un vero e proprio limite cioè se dicessimo 100.000 non sbaglieremmo ma forse magari anche di più cosa ne pensi di Adar Cardano questa è bella perché è una domanda che mi fate tutte tutte le volte io purtroppo sono un po' scettico su Cardano perché è cresciuto troppo poco un progetto già vecchio già abbastanza datato che è stato superato è stato superato da Solana è stato superato da Binance Smart Chain è stato superato da Polygon è rimasto troppo indietro io non so se ce la farà mai recuperare è un progetto lento lentissimo ok anche questa è una notizia falsa occhio USDT mint a vuoto no falsissimo anzi vi tiro di più Tether ha in cassa più dollari o equivalenti di quanti USDT abbia messo quindi fa attenzione perché questa è una notizia falsa Ethereum ha fatto un pump anche sì per la ragione che dicevamo prima c'è per ebrele croque che probabilmente emetterà un ETF anche su Bitcoin hai letto niente su Caspa no non sono aggiornato su Caspa anche quest'altra domanda farai un video su come generare in sicurezza un seed Bitcoin ecco io ormai da un po' di tempo ho scelto di non fare più video tutorial per due motivi primo perché io non sono un tecnico ci sono altri che sono molto proveri di me a fare questi video se volete uno che vi consiglio è Luigi Travaglini che è molto bravo se volete anche chiedergli consigli c'è un sito che si chiama Andy Crypto è molto bravo un tecnico molto bravo io invece sono uno che si occupa di notizie quindi io faccio solo notizie scusatemi poi andiamo avanti ok questo c'è un altro che devo bloccare perché spamma notizie false poi vediamo un po' scusate ce n'era una che mi manca eccola qua e Polkadot ecco Polkadot è un altro di quei progetti che sta andando avanti lentamente però attenzione Cardano sta andando avanti troppo lentamente ma ha rivali perché Ethereum è il rivale di Cardano ok in realtà anche Polygon praticamente è rivale di Cardano Polkadot invece non è che abbia cioè quello che vuol fare Polkadot è davvero qualcosa di uno unico ha dei rivali ma non sono non l'hanno superato ok cioè i rivali di Cardano hanno superato Cardano ma i rivali di Polkadot no però io non lo so però comunque sta andando avanti troppo lentamente però sta andando avanti un po' più velocemente la testnet Kusama quindi chi segue Polkadot conviene che segua Kusama perché in questo momento stanno lavorando molto su quello che è la testnet perché poi dopo dovrebbe arrivare quello che fanno su Kusama su Polkadot ok Monero è decentralizzato forse l'unico rimasto insieme a Bitcoin sì concordo Monero è decentralizzato uno dei più decentralizzati che ci siano e Bitcoin a mio parere è il più decentralizzato che c'è e Monero ha il vantaggio che è veramente anonimo mentre Bitcoin no e Bitcoin è pseudo se si vende Bitcoin per comprare Pax Gold bisogna pagare il 26% di transazione ecco sembra proprio di no perché Pax Gold non è un money token ma è un asset reference token e l'agenzia d'entrata ha detto esplicitamente che se vendete criptovalute come Bitcoin incassando asset reference token come Pax Gold non è un evento fiscalmente rilevante ogni ciclo di rialzista dicono che ci siano sempre un nuovo halcon che pompano in questo momento non trovi che stanno pompando le solite che hanno performato la costa bull run sì hai perfettamente ragione ma attenzione non è ancora iniziato un ciclo di rialzista prendi quello del 2020 ipotizziamo che la situazione attuale sia effettivamente simile a quella di fine 2020 ti ricordi quando hanno iniziato a pompare le nuove halcon a gennaio 2021 quando la crescita di Bitcoin si è interrotta quindi probabilmente in questa fase anche se fossimo in un nuovo ciclo rialzista continueranno a pompare le normali halcon è possibile che le nuove halcon possano iniziare a pompare quando questa fase rialzista di Bitcoin finisca questa è solo un'ipotesi ma nel 2020 accade così cro potrebbe raggiungere i massimi del 2021 sarebbe impossibile matematicamente no no secondo me è possibile serve una nuova bolla però è possibile le bolle nei mercati cripto ci sono quindi io non lo escluderei andiamo avanti mi sono un attimo bloccato la chat tokenizzazione degli asset secondo te quanto e che tipo di impatto potrebbe avere per il settore e l'impatto non lo so però potrebbe essere molto interessante perché io credo che molte borse tradizionali stiano pensando a tokenizzare gli asset per un motivo molto semplice ci sono molte azioni che hanno un costo troppo elevato non si possono comprare frazioni di azioni si possono comprare frazioni di azioni tokenizzate e quindi è una tecnologia che secondo me verrà usata sempre di più certo che se verranno tokenizzate su ethereum molto probabilmente bisogna forse usare anche ethereum andiamo avanti e del token atom di cosmos cosa ne pensi è uno di quei di quelle criptovalute se non sbaglio perché cosmos è una blockchain che in teoria ha potenziale però se ne parla già da un po' di tempo sono quelle cose che c'è l'anno buono per emergere era il 2022 cioè quando non c'era più la bolla ok e il mio non so se cosmos abbia fatto un salto di qualità nel 2022 ho letto qualcosa di interessante hanno lavorato però non mi pare che abbia fatto il botto ok questo è un altro che devo bloccare perché viene a spammare notizie false ok andiamo avanti rivolgiamo il tradizionale mononcino rosso oggi c'è oggi c'ho qualcosa di rosso tanto prima o poi arrivo che ne pensi dell'IVAF il resto non lo leggo l'IVAF è la famosa imposta di bollo lo 0,2% annuo fa veramente schifo ragazzi è orripilante che abbiano messo una tassa di possesso anche bassa sulle criptovalute è solo proprio perché lo Stato italiano fatemelo dire è capace e bravissimo a rubarci i soldi punto andiamo avanti l'acquisto di beni e servizi pagati direttamente in cripto sono eventi fiscalmente rilevanti quindi anche il pagamento delle fees di una chain fiscalmente rilevante non lo so non lo so bellissima domanda no non riesco non riesco a darti una risposta la prima parte giusta della domanda la seconda non lo so però insomma no un po' dura poi andiamo avanti in questi giorni sono alle stelle i progetti di IA intelligenza artificiale sarà il nuovo trend sì credo di sì però attenzione è un trend che c'è già stato quindi non so se vada avanti poi andiamo avanti è Polkadot 2.0 il problema è che non si va avanti diciamo così a annunci prima o poi bisogna quagliare cioè Ethereum ragazzi Ethereum va avanti perché funziona perché lì sopra c'è un sacco di roba e su Polkadot c'è ancora poca roba ok Loopring e REN si sono progetti che allora REN non me lo ricordo bene ma Loopring è già un progetto che c'è da un po' di tempo un altro di quei progetti che secondo me è rimasto un pelino indietro poteva fare qualche cosa in più Chainlink cosa ne pensi? allora Chainlink a mio parere è molto interessante è vero non è decentralizzato è un token dietro c'è un'azienda ma l'azienda Chainlink è molto interessante Chainlink e credo che sia leader del suo mercato c'è degli oracoli oltretutto non sono i servizi che 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 offre sono fondamentali sono leader ma sembra che siano scusate sono utilizzatissimi quindi è estremamente interessante però è legata praticamente alla DeFi quindi nel 2022 la DeFi è crollata vi do un dato ok perché è un dato che mi ha fatto veramente un po' insomma mi è rimasto un po' lì allora il TVL della DeFi cioè il valore di tutti i token immobilizzati sui protocolli DeFi ha toccato un massimo ovviamente a novembre 2021 a 177 miliardi di dollari 177 sapete a quanto siamo adesso 45 ok e il crollo è avvenuto soprattutto ovviamente tra maggio e giugno 2022 quando implose Terra Luna che era un'importantissima piattaforma DeFi e quindi inevitabilmente c'è il link che è andato tanto giù però a mio parere la DeFi ha tutte le caratteristiche in regola per tornare su quindi tornare ad essere rilevante e portarsi dietro c'è il link quindi è molto interessante anche se probabilmente prima o poi avrà dei concorrenti forti ok adesso è leader ci sono già anche dei concorrenti però adesso è leader potrebbero arrivare perché nel momento in cui capiscono altri che c'è c'è business arriverà ma un ETF è uno dei principali strumenti della finanza tradizionale sì sono considerate le azioni le più usate ETF e azioni sono due degli strumenti degli asset più scambiati sui mercati di finanza tradizionale anche perché spesso gli ETF vengono usati per fare scambi sul forex sul mercato delle valute per non dover comprare proprio le valute quindi si sono tra i due più utilizzati ok scusate alcune domande le salto perché non so rispondere come mai una criptovaluta come V-Cain che sembra di grande utilizzo non esplode come prezzo e occhio perché io non so se veramente V-Cain abbia un grande utilizzo ok allora bisognerebbe prima andare a verificare quante transazioni effettivamente vengono effettuate e secondo da chi ci sono purtroppo molti gestori di criptovalute in particolare di nodi di blockchain eccetera che fanno un sacco di transazioni per far finta che ce ne siano tante quindi io non sono sicuro che ce ne sia davvero così tanto usato proprio perché il prezzo non è esploso per quanto riguarda l'ecosistema Curve allora a me io ritengo che Curve sia un progetto DeFi molto molto interessante però ha avuto dei problemi problemi anche seri problemi tecnici ricordatevi che nella DeFi i problemi tecnici sono davvero problematici perché rischiano di mandare all'aria tutto rischiano di far rubare un sacco di fondi quindi devono mettersi a posto devono riuscire a risolvere i problemi che hanno avuto però se veramente ci riescono è davvero infatti c'è stato un momento in cui era usatissimo Curve perché veramente aveva delle funzionalità in più solo che poi alla fine ha avuto dei problemi e quando è stato avere problemi ovviamente hanno smesso di usare vediamo questo pensi che con il passare del tempo quando la mass adoption sarà venuta a quel punto le tasse sulle plusvalenze potrebbero non avere più motivo di esistere in Italia in Italia le tasse non si tolgono mai anzi se ne aggiungono sempre di più tenete presente che in Germania dove sono molto più avanti di noi di queste cose e dove lo Stato ha un comportamento differente nei confronti dei suoi cittadini in Germania hanno detto se tu tieni per più di 12 mesi una criptovaluta senza venderla poi dopo comunque in qualsiasi modo la vendi non te la tassiamo più qualcosa di simile lo fanno anche in Portogallo quindi io però io non o è l'Unione Europea che decide di dire a tutti no dovete fare così però l'Unione Europea sulle politiche fiscali non interviene perché non c'è nessuno Stato Europeo che accetterebbe di farsi imporre le politiche fiscali dell'Unione Europea quindi io non vedo che l'Italia domani possa abolire delle tasse ne aggiungerà sicuramente magari non in ambito cripto ma sicuramente ne raggiungerà ora io direi che di domande non ce ne sono più sono riuscito a esaurirle tutte Powell non sta dicendo niente di che in questo momento vado ancora a controllare come dicevo sta dicendo cose più o meno che aveva già detto vediamo se c'è qualche cosa di nuovo no sono le solite cose d'altronde come vi dicevo sta semplicemente parlando facendo un confronto con altri al Fondo Monetario Internazionale quindi non è che sia arrivato lì per dire delle novità il fatto è che il 26% è davvero tanto sì però è lo stesso che c'è sull'azionario e quindi sì è vero è tanto e tanto anche sull'azionario ok però in Italia tutte le tasse sono troppi citatemi una tassa in Italia che non è elevata o meglio facciamo questo ragionamento ci sono degli stati europei in cui le tasse sono ancora più elevate mi sembra la Danimarca la Svezia però che servizi hanno cioè il punto è che ci sta magari anche in qualche stato a pagare tasse molto elevate ma in cambio uno dovrebbe poter avere chissà quali servizi pubblici cioè in Italia abbiamo tasse elevate e servizi pubblici o scarsi o di scarsa qualità insomma non certi livelli di quelli penso di Danimarca e Svezia abbiamo un livello di tassazione che assomiglia più a quello della Danimarca o della Svezia che non a quello che ne so di altri paesi più simili a noi della Spagna ecco diciamo così però poi abbiamo i servizi della Spagna e non quelli dei paesi nordici quindi sì il 26% è tanto però è lo senso che c'è su qualsiasi tipologia di plusvalenze finanziarie la DeFi ha fatto perdere un sacco di soldi con APR e Stellari che erano a file schema Ponzi anche per questo motivo molti sono fuggiti verissimo nel 2021 c'è stata un'enorme bolla sulla DeFi anche a causa di comportamenti truffaldini come quella di sparare ricordatevi che gli APR questa è una cosa che molti tendono a non non prendere nella giusta considerazione gli APR sono i rendimenti in percentuale annui però attenzione variano le cose del tempo cioè un APR ad un certo momento non è la percentuale che si guadagnano nei successivi 12 mesi ma è la percentuale del giorno proiettata sui 12 mesi ma magari il giorno dopo è scesa ok quindi molti hanno visto degli APR Stellari sono andati a investire credendo che sarebbero rimasti così per 12 mesi poi invece sono scesi e si sono fregati e molti alla fine erano erano praticamente schemi ponzi perché per consentire quegli APR l'unico motivo era prendere i soldi dai nuovi venuti e darli a quelli vecchi che quelli vecchi ovviamente erano quelli che avevano creato quei protocolli e quindi questa cosa è verissima l'Italia è un paese pieno di debiti purtroppo è verissimo se non ricordo male la spesa per debiti dello Stato italiano cioè in poche parole gli interessi sul debito pubblico sono una delle due o tre maggiori spese complessivamente in Italia insieme a sanità e pensioni se non ricordo male in Italia sono tre le grosse spese pubbliche sanità, pensione e interesse sul debito e quindi noi dobbiamo pagarlo se interesse sul debito perché sono andiamo in fallimento e quindi lo Stato viene a prendere i soldi a noi quello che mi dà molto fastidio è che questo debito non l'abbiamo fatto noi è stato fatto negli anni 80 negli anni 90 quindi quando esempio io negli anni 80 ho iniziato gli anni 80 a cinque anni ok e a fine anni 80 ne avevo 15 quindi io non posso essere in alcun modo ritenuto responsabile di quello che è accaduto negli anni 80 quindi noi adesso paghiamo debiti che ha fatto qualcuno prima di noi che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità e questo è profondamente ingiusto per questo che secondo me fatemi fatemi dire un'opinione personale secondo me è profondamente sbagliato che gli stati si indebitino perché perché vuol dire che una generazione si indebita prendendo soldi che non ha ok e poi scarica il costo sulle generazioni successive devono essere i privati e le aziende a indebitarsi perché se io mi indebito sono io che devo pagare quel debito ok poi ovvio che se poi ho degli eredi gli lascio delle cose in eredità se accettano l'eredità dovranno pagare anche i miei debiti ma quello è un altro discorso è un discorso che si gestisce tra privati invece il discorso dello Stato non si può gestire e così punto e basta ok ecco c'è qualcuno che mi dice 100 miliardi all'anno paghiamo di interesse sul debito è più di una finanziaria ok buon direi che abbiamo finito qua stasera ci vediamo giovedì prossimo ovviamente giovedì prossimo dovrei avere un ospite quindi vi confermerò se avrò se avrò un ospite la conferma arriverà su su x su youtube eccetera sul mio canale telegram e quindi vi dirò chi avrò come ospite e di cosa parleremo un saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti